Narnali è stato un episodio credo riconosciuto da tutti, anche l'assessore ieri ha risposto in maniera direi soddisfacente alle nostre interrogazioni. Narnali è stato un episodio di delinquenza drammatico su cui bisogna essere impietosi. Questi operatori sono venuti meno alla loro missione e alla loro vocazione d'aiuto, quindi il problema chiaramente non si pone. Quello che abbiamo voluto sottolineare è che non devono succedere queste cose, sono come nel rischio clinico eventi sentinella. Quando avvengono bisogna allertarsi subito, bisogna subito riuscire a cercare di identificare dove stanno le problematiche. Una delle problematiche che abbiamo sollevato è che non possiamo attribuire questi servizi così delicati a un sistema cooperativo di soggetti spesso sottopagati con qualificazione del personale discutibile in cui non vengono fatte adeguate formazioni, per esempio a rischio di burnout, che vuol dire l'operatore che si brucia e che diventa anche aggressivo. Allo stesso tempo, all'unanimità, la regione, ieri nel Consiglio regionale, ha approvato una proposta nostra che era quella di istituire il geriatra di RSA, che è un soggetto con una vocazione alla cura del soggetto anziano e che quindi starà sicuramente più in guardia, più attento insieme agli assistenti sociali anche a identificare eventuali episodi che suggeriscono il maltrattamento, come ci sono le linee guida per identificarli. In questo caso la regione vi ha ascoltato, vi ha accolto? La regione ci ha ascoltato, ha fatto anche un'operazione immediata di sostituzione di tutti gli operatori all'interno dell'RSA. Noi siamo andati, anche come Movimento 5 Stelle, a fare un soprallogo e a garantire la nostra solidarietà a questi operatori perché sappiamo che un anziano che si trova a dover affidarsi a un operatore nuovo qualche volta genera un piccolo stress e quindi volevamo rassicurare gli operatori nuovi che avevano tutto il nostro appoggio. Bisogna fare anche la prevenzione di questi episodi, chiaramente.